un secondo che arrivo qua così vedo se funziona il microfono o non funziona lo metto qui, ok allora io leggo qua, voi leggete qua, non è vero voi non leggete però allora in strada domani pomeriggio mi potresti aiutare? e già c'è la prima regola che è questa qua allora non capisco bene i compiti, potresti spiegarmeli? mi potresti far vedere il libro che si chiama Nihongo Speedmaster ok andiamo avanti ritorno su quindi Tetsudate 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 Nanika in che cosa dovrei aiutarti? Fudosa Ianto Eia Omini Kukara Isshoniki Tehoshi vado a vedere la stanza con l'agenzia moguigliare e vorrei che venissi con me insieme a me Poi torniamo giù L'altra regola che è qua Non c'è nessuna regola Niente Ah no vado avanti a leggere Niente Bokuga Itemo Skataganai Janaino Anche se ci vengo io non cosa potrei fare? Non ho nulla da fare Itoridato Shinpai Nanoyou Da sola mi preoccupo Vai che questa c'è l'altra frase dopo che quindi facciamo questa parte qua Skataganai non importa, non è importante se vengo io o meno sarebbe Allora Uno Quindi qua Denshaga Tomata Nanara Okurete Skataganai Visto che il treno si è fermato è normale che sia arrivato in ritardo Yacinga Yasuindakara Ekikara Okutemo Shogunai No Tokutemo Anche l'altra volta ho detto la stessa cosa Non lo ricordo Allora Visto che l'affitto è economico Non ci posso fare nulla se è lontano dalla stazione Poi torniamo la lettura Itori Itoshinpainaloni Soreni Itoni Yote Mikata Gachigao The Shogunai Allora Da solo mi preoccupa e poi sai che ogni tipo di persona ha un modo diverso di vedere Questo è Yote Significa C'è differenze tra persone e persone Uno Miseniyote Nedangachigao Ogni negozio ha un prezzo diverso Yushoku Taberu Jikanwa Itoni Yote Iroiro L'ora a cui si mangia la cena È diversa in base alle persone Yashumi No Hi No Sugoshikata Sono I No Kibun Niro Il giorno di riposo Come passa il giorno di riposo Dipende da come Dal feeling Da come lo senti quel giorno Allora poi Isshoni Mitekureru Dakede Ikara Va bene anche se solo guardi con me Wakata Kibonoea Mitsukariso Ho capito Riuscirai a trovare la stanza che speravi Tabun Tonikaku Ashta Kimeru Tsumori Dakarai Yoroshkune Forse Comunque Domani Voglio Voglio prendere una decisione Quindi accompagno Mi faccio di merda Allora Mirudake Dei Kara Allora Va bene Solo Solo che Cioè sarebbe Quindi Konosukudai Dakede Ikara Oshite Korenai Va bene solo questi compiti Potresti spiegarmeli Che è questa qua Poi Bukunosobani Kimigairu Dakedei Vicino a me Basta che ci sia solo tu Con i romantik Ok Poi Ah io ero andato avanti così alla grande Sì Allora Sakura Sanni Ashta Isshoni Atarashi E io Check Ste Oshito Iwareta Allora Sakura Domani Andiamo insieme a vedere Cioè a fare il check Della Vuole Mi ha detto che vuole Che andiamo insieme a fare il check Della stanza Dell'appartamento Ok Ed è questo qua Ste Oshii Però non c'è Vabbè C'è una regola E poi non me la spiega Molto bene Vabbè Andiamo avanti E io E rabu Sai E rabi sai E rabu sai E rabu sai E rabu sai Sono Toki Dake De Naku Mawari no Kankyo Yoku Check Shinake E rabu Naranai Vabbè Lo leggo tutto No Mi sono fermato Come anche l'altra volta Allora Quando scelgo La stanza Non solo Devo guardare La stanza Ma fare il check Di quello che c'è Di quello che c'è Intorno Dell'atmosfera Che c'è intorno Andiamo avanti dopo Sai E quando Sarebbe Allora Gochumon No Sai Ni Ni Wa Den Wabango Oshira Sete Kodasai Quando fai una prenotazione Ricordati Di fargli conoscere Il numero di telefono Fatevi segno Ok qua Osara Adesso sto leggendo questo Osara O Ken 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 Kengaku Sta Sai Kuashi Se Tsume O Kikukoto Ga Dekita No Otera Che cazzo sto dicendo Oteca Otera Kengaku Sta Sai Kuashi Se Tsume O Kikukoto Ga Dekita Quando sono andato a visitare Il tempio Sono riuscito A sentire Una spiegazione Molto ben fatta Molto dettagliata Già non c'è più Fiato Bene Qua dove cacchio Mi sono fermato Ho fatto Ho fatto questa regola Ok perché era qua Ok perfetto Allora Dekidenaku Non solo Non sono andato in aereo Ma anche in nave Non sono andato in aereo 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 Seihin cos'è che era? Ververebbe essere prodotto Però cerchiamo Che prodotto si dice anche in un altro modo Questo prodotto Questo prodotto Non solo è usato in Giappone Ma anche all'estero Oggi non solo il vente forte Ma piove anche tanto Oshirudake janakte Jissaini yate minakcha Non solo No Kangairudake janakte Jissaini yate minakcha Non solo Devo pensarci Ma vorrei farlo anche in realtà E devo farlo anche in realtà Ok qui Tokuni Anzenbashu Tokawa Jissaini yate Tote Oiyote Tote Totemota e sezu Non solo Se il posto è sicuro o meno Scusa Non solo Specialmente Se il posto è sicuro o meno Per le ragazze è molto importante Allora Uno Per i bambini giocare è una cosa molto importante Per me lei è come se fosse mia mamma Allegria Sakura-san Dove cacchio è? Sakura-san va Ashta Uchini No Ashta Koso Eyao Kimetaito Motteru yoda Shikari Chek shitao gai Sakura domani vuole Decidere la La stanza E quindi devo fare un buon check Allora Uno Ima Kotoshi Koso Gambaroto Quest'anno mi impegnerò L'anno scorso invece no Gambatta Karakosogo Kaku De Kitanodes Visto che mi sono impegnato Sono passato Sono passato In teoria all'esame O che cazzo ne so È passato Comunque è stato promosso Allora 57 Vì è 49 Uè Dani Sto provando a fare la lezione di passo Ma la voce viene e va Quindi non lo so Fino a dove arrivo Arrivo Allora Qua Niente Grazie a Niyote Atarashi Kenkyu Niyote Byokino Gein Ga Akira Kaninatta Grazie Grazie alla nuova ricerca Si è venuta a conoscenza del motivo della malattia Due Per colpa del pioggione Molte abitazioni Sono state Igaie Distrutte O danneggiate O danneggiate Aspetta che lo cerco Se l'avevo cercato anche l'altra volta Me lo ricordo benissimo Il bello è che ricerco sempre le stesse parole Perché non usandole Danneggiate Giusto Importante che me lo ricordo Ma la mia Titan X con il tuo fegato Il mio fegato è più piccolo della Titan X Allora I danni causati dalla pioggia sono più grandi del previsto Poi Per quel che riguarda Per quello che riguarda questo caso sono arrivate nuove informazioni Mi sono arrivate nuove informazioni Le informazioni riguardanti il caso consegnale alla polizia Indica soggettazione per quel che ribalda Quando parlo con le persone superiori Mi impegno a parlare in Keigo Che sarebbe la forma lei in Giappone Per quanto riguarda la presentazione Se qualcuno ha qualche domanda Prego Tanto non vi rispondo Se avete domande riguardanti la presentazione Potete farle su questo foglio Scrivetele su questo foglio Questo non me lo ricordavo Per cinque giorni In compresa del tempo Allora Uno La riunione è durata per cinque giorni Minchia che allegria Due Nanayaku metroni watate Sakura no ki ga U U Comunque l'ho provato a mettere ghost of tushima in giapponese Solo molte volte mancano i sottotitoli e manco mezzi discorsi Eh perché l'hanno fatto bene Sakura no ki ga Ue rare tehiro Sto ue rare tehiro Sono stati seminati O sono stati Allora per settecento metri Sono stati Dovrebbero essere Sono stati piantati Gli alberi di ciliegio Guardate che controllo Ho cercato troppo presto Comunque l'ho visto ieri L'ho visto anche da Com'è che si chiama Non è che lui ci giocava in italiano Questo è tutto in italiano E la voce di Zoro è malissima La voce di Zoro spacca Infatti io ho visto il trailer in giapponese E appena ho sentito la voce di Zoro Ho detto questo Solo per quello bisogna prendere Ho visto lì da Go Easy Twitch Mi ha fatto morire da ridere Cretino Poi naturalmente mi sono addarmentato Perché stavo male E piantato Ok La riunione che è durata 5 giorni è finita Poi esercizi Vediamo se li becco giusti o no Per quel che mi riguarda Il periodo delle superiori Ho dei miei ricordi Ok Chumon ni Chumon ni Kansuru Otoia wasse wa Denuadeone gaishimasu Allora Chumon ni Quello che riguarda Le ordinazioni Fatelo per telefono Mi kakani Mi kakani wa tate Ageshi Ame Gatsuzita Per tre lunghi giorni La pioggia forte Cioè la pioggia Ageshi E' super forte E' continuata Ha continuata Se è giusto 4 Io leggo qua e poi guardo lì se ho fatto giusto No Shiminno i ken ni I ken Scusate Shiminno i ken Ni Taiste Shicho wa Nani wa Commento Surubikida Per quel che riguarda Quello che pensano I cittadini Dovrebbe essere Shicho Era il presidente O il sindaco Dovrebbe fare qualche Dovrebbe commentare qualcosa Ni taiste Giusto Ok 5 O shogatsu No iwai Katawa No scusate Shogatsu No iwai Katawa Kuni ni Totte Zamazamada Allora Zamazama Eh? Zamazama Sì Eh che non c'è Non vedo un cazzo Ma anche cieco Oltre che stronzo Allora per quello che riguarda Per i festeggiamenti di fine anno Ogni nazione E' diverso Praticamente Totte giusto Ok Cono kenni Kanste Totte Niga Shizu Mongari Ah Cono kenni Kanste Per quel che riguarda questa cosa Avete qualche domanda Nanika Sì Shizu Mongari Masuka Ok giusto Allora Sore o Akira Akira Kanis Su Tame Nih Iroi 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 An Hi Wataru Chosa Han Cos'era Tell me why Tell me the way to you Aria Aria Range To Qua me lo segno Futari Futari Kekonshiki Sanjikan Ni Watate Telebi Hos Sareta Il matrimonio dei loro due è stato trasmesso per tre ore alla televisione Watashi ni Totte Ichivan Taisezuna Mono Akasakudesu Per me è la cosa più Ah c'è la risposta degli annunci Ah c'è Eh aspetta figa Non l'ho neanche acceso Scusa Sai che non sono molto attivo Ah richieste e annunci Ma mi dice Completa Dimmi se funziona Anche se funziona Aspetta un attimo Così mi dice funziona Dovrei avere un altro monitor Per guardare queste cose Ma è che siamo soliti Eh no l'ho fatto partire Mi dice annunci zero Quindi è partito Eh ma se hai il blocco È normale che non è partito Se metti adblock Non parte no Cioè parte ma tu non lo vedi Perché è adblock Ehm Tonnelnai no Jikoni Manca l'aria Per colpa dell'incidente dentro il tunnel C'è stata una lunga coda Un lungo traffico Per colpa dell'incidente dentro il tunnel Per quello che Se volete informazioni più precise Guardate sulla pagina Sulla home page Tenseni Tenseni Taishte Soyuikata Surunowashi Tsureda Se parlare così al professore È maleducato Poi Andiamo avanti Ce la farò Manca l'aria Kanji Come kanji due volte E questo comunque La lezione qua Ok Niongowa 1 Niongowa Josu Ninaru Niwa Dostara Indesuka Per diventare bravo in giapponese Cosa posso fare Studia Consalto Kaijoni Ikuniwa Basga Benrides Per andare al palazzo del concerto È comodo il pullman Toa Cosa significa? Sarebbe Dejika Uno Dejikame Toa Dejitalcameran Noko Toda Digikame Ve lo devo leggere per forza così Perché non sono scomodo a leggerlo Significa Digital Camera Due Iso iso Anaste Iunowa Donna Nascicata Iso iso Il modo di parlare Iso iso Che tipo di modo di parlare è? Okano ito Nikiko Inai Onichi Seiko Ede Anaskoto Senza farti sentire Delle altre persone E parlare a bassa voce Tre Atamaga Iroito Iunowa Iroirona Bunyani Tomodachi Gata Xanto Iuimi Kaogai Iroi Avere la faccia larga Che cosa significa? Avere varie esperienze Bunyia Cos'era esperienza? E avere tanti amici Bunyia Aspettate che lo cerco E me lo segno Anche perché Sicuro che questo L'ho cercato anche l'altra volta E sicuro che lo sto cercando Anche adesso Perché poi quando ripasserò la terza volta Mi vado a guardare solo le parole che ho segnalato Aria Ok Che ha tanti amici in varie arie E Che significa che ha tanti amici in tante Cioè praticamente Che non so Amici tra muratori Amici tra medici Amici tra Eccetera Internet O Zucatero Allora per Conoscere i significati e le parole Ho usato internet Kamio Kirunoni Asami Gashizio Per tagliare Cioè per tagliare il foglio C'è bisogno delle forbici Però Incredibile Ma Nomono Tosen È ovvio Uno E' normale che lui si sia arrabbiato Se Se fai quelle cose così terribili Trenta Sì Trenta Ciao Vabbè Due Che è la stessa cosa È normale che non mi ricorda Perché è una cosa che è successa Trent'anni fa Toccato Sizzona Sizzona Mono Taksangaru Ah ok Le cose che servono Per esempio Sono Il libro E il tavolo Beh interessante Ci sono tante cose Che servono Esempio Tavolo E libro Due No A parte che vi sto leggendo E da un po' Non fa live Eh certo Sono morto Mainichi Nemurenai Toka Atamagaitaitoka Itte Shigoto Eserciazio Tutti i giorni Non posso dormire Allora Mainichi Nemurenai Toka Atamagaitaitoka Itte Shigoto Ni Conai Bukagairo Tutti i giorni C'è uno Che Uno dei miei Sottoposti Che non viene a lavorare E dice Mi fa male la testa O Non ho dormito Eserciazio Allora Konobiokini Naosu Niwa Shujutsu Gashizio È quello che vorrei fare anch'io Ma non me lo fanno Per Curare questa malattia C'è bisogno di un'operazione Sì E mi fanno aspettare Due Gambatta Gambatta Karakoso Ike Gambatta Karakoso Ike Kani Da Setandayo Visto che mi sono impegnato Ho dato dei buoni risultati Giusto Tre O Yo O O Wakasu Noni Itsumo Denki Potto O Tsukateru Per scaldare l'acqua Uso sempre Il Che cazzo è Denki Potto Lo Scaldaccesso Dunque Giusto Questo Denki Energia Potto Non so Cioè Praticamente Non so La parola Che Non è In Giappone Il Bollitore Electric pot Che cazzo è pot La testa Stamattina Che mi giro la testa Pentola Pentola elettrica Pentola a pressione Allora I Jinse Toa Don Jinse Una vita Bella Quale vita Sarà? No Perché Perché Devo Prenotare Una cosa Che non so Neanche Com'è Ben Kyo Steina E non so Neanche Il prezzo Ben Kyo Steina In Dakara Seisei Kiga O Harui Non Mo Atari Mai Visto Che non Studi È normale Che Ha i brutti Voti Konogisho No Ho saltato Un pezzo Ma dai Un buono Spruzzino Lo so Ma tanto la compro Però Cioè Prima voglio Vedere Con cosa Magari Esce Perché Io voglio Prendere Quella Che magari Ha dentro Due pad E robe varie Come ho fatto Con la Play 4 Aspetto Tanto fretta Non è un Fregan Cazzo Anche perché Se non ci sono I giochi È inutile Che compri Una consorsa Se non c'è un cacchio Da giocare Allora Allora Go Niu Jo No Sai Ni Kore Omise Te Kudasai Quando Sei L'entrata Fai vedere Questo Significa Tira fuori Il pisello Sette Konogisho Imi Imi Dake Janakte Accento Mo Shirabera Reru In questo Dizionario Non solo I significati Ma anche Si può Cercare Gli accenti Giusto O genkisode Sneso Cira Kosò O genkisode Yokatta Vedo che stai molto bene Vedo che stai bene tu Faccia di merda E sono contento Giusto Poi Nove Ninenburi Tanaka Sanni Yattayo E Jusho Tukakita Ho incontrato Da due anni Tanaka Che non vedevo E Gli ha chiesto L'indirizzo 10 Shukuda Gana E Toyu No A Ben Kyo Shinak Temo I Toyu Kotokana Poi il bello Sarà compatibile Con la 4 Solo dopo Un aggiornamento Che Che non hanno ancora fatto Molto bene Allora Non ho fatto i compiti Allora Shukudaiga Ah Non ho fatto i compiti Non ho i compiti Significa che non devo studiare Sono Shigoto Osuru Kadoka Jigyu Jigyu cos'era? Ficcato Però poche parole Non mi ricordo Dai Ah Paga l'ora Ficcazzo Comunque l'avevo sbagliato Lo stesso Jigyu Sì Jigyu Jigyu Ni Io rimas Allora Se farò quel lavoro o meno Dipende da quanto mi pagano Allora Questa è importantissima E io non me lo ricordo Questa qua è ora E questo qua non lo sapevo Qua sì Questa qua Allora E tanto non me lo ricorderò Undici Sono No L'ho già fatto Ciotto Ciotto de Icara Sukodai Va bene anche solo per poco Fammi vedere i tuoi compiti Perché li vuoi copiare Faccia di me 13 Sports Mirudake Denaku Jibun Desuru Motto Tanoshi Lo sports Non solo guardarlo Ma farlo da me Mi piace Infatti io preferisco Farlo da me Che guardarlo 43 Grammatica Ok Sono ancora Volevo fare Quante Ah vabbè dai Sì faccio due lezioni Come al solito Resisto Stanto sono passati Sono passati 30 minuti E mi sento come se passate 5 ore Sto morendo Vabbè Andiamo avanti Allora Solo Quando fai una cosa Eh no Quello che non mi sono ricordato Io sto leggendo qua Non sto leggendo Allora Io non sto guardando L'Excel Sto guardando il libro Poi alzo la testa Per vedere se ho fatto giusto Le cose che non mi ricordo Le metto in grassetto Per poi ripassare Quando ripasso Riguardo Ma ogni volta Le parole che non sapevo prima Sono quelle che non so dopo È sempre così Poi lo studio vero e proprio Sarà dall'N2 Questo qua diciamo C'è ripasso Del ripasso Del ripasso Sono cose che so già Dalle certe parole Che non avendole mai usate Non le so Mainichi Karerais bakarita Beteru Ogni giorno mangio Il riso al curry Bravo Mi senì Atta Atta no Furui Shinamono bakaride Gakaridesta Quello che avevo nel negozio Era solo roba vecchia E mi ha dato molto fastidio Comprì roba vecchia Allora Una situazione che non cambia Uno Ototo wa mainichi Nete bakaridan Mio fratellino dorme tutto il giorno Tutti i giorni Eh Sono a cazzo su Due Asonde bakaride Naide Benkyoshinasai Non giocare sempre Studia anche Allora Questo è Uno Quando quella persona parla Non solo ci mette un sacco di tempo Ma non si capisce neanche Che cazzo vuole dire Finetora ha scoreggiato Amaco No Eeeh No Ieri no O si E Torah ha fatto puzzetta Ha detto di no Amaco Due Genkin Pecca Genkin Perché gli baci sempre il sedere Se gli baci il sedere Gli soffia nel sedere Genkin Bakari Ka Cash Card Ia Passporto Made Non solo mi hanno rubato I soldi E la carta di credito Ma anche il passaporto Beh complimenti Direi Mi manca l'aria Mi manca l'aria Perché mi manca un pezzo Manca un pezzo What? Ah no è qua E' niente Sono impazzito Io non mancava niente Allora E' qua Irohosa Prima di comprare L'aria condizionata Controlliamo La Larghezza della stanza Due Al baito Agimete Shigotono Taiensa Ga o Karimasta Ho iniziato a fare il part time E ho capito Quanto è duro lavorare Sarebbe durezza Ma non esiste O Importanza Cioè Difficoltezza Ma non esiste Allora Yubi no Goki Uno pianista No Yubi no Goki O mi te kudasai Guarda Il movimento Delle dita Del pianista Ma come sta andando? Eh Lord è incasinato Anche lui Però Bene Per quello che mi ha detto Al telefono Bene Due Shumatsu no Tanoshimi wa Golf da Il divertimento Del fine settimana È il golf Allora Vediamo se li becco Allora Uno Nete bakari Dakara Senaka Ga Neta Bakari Nete bakari Neta bakari L'esercizio mi ha spiegato Nete bakari Dakara Senaka Dormo sempre Quindi mi fa male la schiena Mo 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 Ciao Mo Mo Shikomu Mo Shikomu Sai Ni wa Mo Shikomu No Sai Ni wa Mo Shikomu Sai Ni wa Shashin Ga Shizio Quando fai L'iscrizione C'è bisogno La foto Mo Shikomu No Sai Ni wa Shashin Ga Shizio C'è la stessa cosa Solo che uno Se c'è il mu Dovete mettere Sai Se c'è mi Dovete No Si se c'è mi Uno è una parola L'altro è il verbo Cambia per quello Poi Atari No I Atari No Yosan Iote Yachinga Cigao Per come batte Il sole Cambia l'affitto Ok Cinque Erensu Shinakatta Dakara Makete Mosho Shoganae Makete Mosho Shoganae Visto che non ci siamo allenati Non ci possiamo fare nulla Se abbiamo perso Sei Guitaga Ikeru Yoni Nenatano De Tanoshikte Shoganae Tanoshikte Mo Shoganae Tanoshikte Allora Ho imparato a suonare la chitarra Non ci posso fare nulla Se mi sto divertendo Come un grillo Sette Kanji Oboeruni Yomu Bakari Denaku Kaku Kotomu Taesetsudes Per imparare kanji Non è importante solo leggere Ma anche scrivere Konomanga Otto Konomanga Wako Domodake Denakute Otona Nimo Odemo Otona Demo Otona Nimo Ninkigaru Konomanga Wako Non è famoso solo tra gli adulti Ma anche fra i bambini Cioè non solo fra i bambini Ma anche fra gli adulti Poi Nove Ciotto Tetsudate Moraena Ekanah Mi aiuteresti un pochito? No Dieci Game Bakari Stewa Ikemasen Non va bene sempre giocare Ma saranno cazzi miei Anoko Wako Vai che non sto giocando un cacchio Questi giorni Anoko Wako Mainichi Assonde Bakkari Il Quel bambino gioca sempre Karewa Judo Bakkari Bakkari De Kendo Ya Boxing Mo Tsui Bakkari 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 Perché era Bakkari Ka Questo Pa 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 Allora Lui non è solo forte In Judo Ma anche nella boxe e nel kendo Bandam lo chiamavano Io perché mi ha messo il dubbio Anche se era giusto Però mi ha messo il dubbio Per come l'ho letto Però Dubbio Si segna Uno No dubbio Non lo segna Se lo dubbi Si Allora Fudo Ea Sansu Sumber Ea De Allora Nella stanza Che Che ci vuole Rifilare L'agenzia immobiliare Cochera Osusumeno Ea Des Mazu Atarashisa Ni Sui te Ma Mattakumundainaitomoymas Ce lo dici di lui Allora Questa è la stanza che volevate Prima di tutto Per quello che riguarda Se è nuovo o no Non ci sono dubbi Non ci sono domande Non ci sono dubbi Ce lo dici di lui Vabbè Atarashini Sui te Per quel che riguarda Uno Nion no Matsuri Nitsuite Shirabeta Ho fatto una ricerca Per quel che riguarda Le feste Cioè le festival In Giappone Due Atarashisystem Nitsuite Shitsumon Wa Imeryode Onegashima Se avete domande Per il nuovo sistema Fatimene tramite mail Perché adesso Non lo so Allora 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 Kotoshi Kanse Stabakari Nandes È stata completata Quest'anno Quindi è nuova Ok Uno Mi sono appena trasferito È andato via L utente spagnolo E quindi In che senso L'utente spagnolo Mi sono Perché parlo in italiano Mi sono appena trasferito Mi sono appena trasferito E quindi Nella stanza Non c'è nulla Saki Kitabakari No Bakari Saki Kitabakari No Amo E Mo Wasurete Shimatta Ho appena sentito Il nome Un secondo fa Me lo sono già dimenticato Questo è mia moglie Allora Tascani Kirei Desne Demo Takai Ngana Inesca C'era un spagnolo Che lurcava E vabbè Fa bene Anch'io Io quando guardo le live Praticamente Non commento Quasi male L'importante Che la guardi Rokuman Endes Infatti È molto bella Però sarà sicuramente Costosa No 60.000 Yen Figlia Uno Korekara Korekara No Gioni Kiyomi Wa Motsu Wakamono Fu Eruno De Wa Na Eto Da Roka Da adesso I giovani Che hanno interesse Nell'agricoltura Saranno Aumenteranno Ma Mo Osoi Kara Kaetta Oga Injanai E già tardi E già tardi Non sarebbe Meglio Che torniamo Che non Non c'è Nessuno Da Bannare Di nuovo E' Sì Sì Ti ho appena detto Che non è Economica Mi son dimenticato Mi son dimenticato Mi son dimenticato di dirti Che questa è una casa Per gli studenti E quindi E' più economica Ah Sì ho capito Sì ho capito Sì ma Ha detto che Era tanto Va beh Allora Qua Per enfatizzare una cosa Uno Visto che non ho soldi Non posso comprarmi una casa Eh grazie Due Oggi Non hai nulla da fare Non è che non ho nulla da fare Domani Devo fare il trasloco Sì ma Oggi Non hai niente da fare Cioè la cosa Non è che capita Vabbè Andiamo Allora Allora Kenta Toishoni Eh io non lo vedo Allora Kenta Toishoni Fudoia Sano Susumero Eao Minitta Sono andato a vedere Insieme a Kenta La stanza Che mi aveva consigliato L'agenzia immobiliare Allora Haha no Uno Haha no Tsukotariori Tabetai Voglio mangiare Il cibo Che mi ha fatto La mamma Due Haha no Se no Takaito A dare De scacchi E quella persona Alta Sono io Tre Voglio vivere Voglio vivere in un posto Con un bel panorama Allora Poi Dove cazzo Sono finito Ashtah Ashtah Made Ni Engio Surukotoni Nishtah Corrigio Eao Annai Yona Kanjida Yoni Yoni Kanjida Allora Entro domani Devo dare una risposta Non penso di trovare In una stanza come quella Bella come quella Allora Kanjida Avere il sentimento Allora Karewa Daigaku O Sotsigyoshi Karat E' arrivata Ma che rompere il cazzo Mako saluta Non hai salutato Dani Sei maleducato Sanremo Sanremo Esatto Io sto molto bene Vabbè Dove siamo finiti Qua Karewa Daigaku Sotsugyoshi Karat Sukoshi Kawatta Yoni Kanjiru Mi sembra che lui Da quando si è laureato All'università Sia cambiato Kono Fukuo Kirutowa Futotte Yoni Mieru Quando metto questi vestiti Sembro più grasso Tre Kocira Eiron Irono Oga Ioni Omo Imasga Penso che questo colore Sia meglio Alex Uè Davis Benvenuto Non si è sentito Ti ha chiesto Tutto ok Mako Ti ha chiesto Però non si è sentito Non so perché Questo è il microfono Mako Mako Questo è il microfono Ma perché Non si sente Urla sempre Quando va Si fa Fa la smr Tutto ok Sempre casino Perché quando viene vicino al microfono Abbasso la voce Perché È da tanto tempo Che non parlo Con un ragazzo giovane Giovane Allora Mi emoziona Si emoziona perché parla con un ragazzo giovane Allora Eia Eia no Sai con Ikirei dashi Ima made Chigai Vas Tsukawazu Ni Ekimade Ikeru Allora La stanza È bellissima E Differentemente Da tutte quelle che ho visto Si può andare anche Alla stazione Senza il polmo Allora Uno Konoke Konoke Kewa Sato Tsukawazuni Tsukurimashita Questo Quanta che dei va come minimo 80 Eh? In che senso? Cos'è? In che senso va 80? Non ho capito Scusate Ho il cervello fuso Konoke Kewa Ti avrebbero fatto subito l'intervento In Giappone Mi avrebbero fatto subito l'intervento Avrei pagato 20 euro Tra parentesi Qua ho pagato 370 Solo la gastroscopia Konoke Konoke Kewa Allora Questa torta è fatta Senza Cioè Senza l'uso Dello zucchero Io sono come il vino Due Nanimo Tabezuni Ataraitara Biokininate Shima Ah in che senso? Come fai a sapere che è dell'80 Davi scusa Nanimo Anche Marco è dell'80 Marco tu sei dell'80 Ma anche Marco è dell'80 Davi sa la tua età Nanimo Tabezuni Ataraitara Biokininate Shima Se lavori senza mangiare Diventerai Ti ammalerai Scusate che accendo l'aria Perché sto morendo Ho finato a caso Ah vai a cagare Pensavo che lo sapessero Se l'hai inventato Fai 80 18 Alex Fai 80 Fai 80 Fai 80 18 Alex Perno di cristallo C'è a Milano Fai 80 Più 18 98 Eh minchia si è giovane Figa E' del 98 Marco non dell'80 E' più giovane di noi Mi sono dimenticato di chiedergli se c'era un supermercato vicino Ma a parte quello ho fatto il check di tutto Allora uno Kanjiga Kakenai Gakusei Gakusei Notoki Motto Benkyo Sureba Yokata E' giovane come Alex che ha 90 anni Esatto Non so scrivere i kanji Quando ero studente dovevo studiare di più Sarebbe stato meglio se avessi studiato di più Due Mi fa male la testa ieri non dovevo bere tutto quel check Mi manca l'aria Scusate se ogni tanto sbuffo ma sbuffo perché mi manca l'aria Allora Parole Mi manca l'aria perché tra il male e il caldo non so quale dei due mi dà più fastidio Allora Ok Non io Se avessi se avrei non lo so che l'italiano quindi aiutatemi voi Uno Kino karaokeni Ikanakattano Isoka shikattanda Jikanga reba Ittano ni Ieri non sei andato al karaoke Sono stato impegnato Se avessi avuto tempo ci sarei andato E invece non ce l'avessi Allora Kino no karaokene Tanoshikatta Risammo Ittarai Yokattano ni Ieri ci siamo divertiti tanto al karaoke Sarebbe stato bello se sarebbe venuto anche il signor li Kononimotsu Omokunakereba Itoride Akoberunoni Questa è mia moglie che dice balle Questa valigia Se non fosse così pesante L'avrei portata da sola Invece l'ho fatta apposta pesante In modo tale che la devo portare io Uno Allora in verità Allora Pensavo di fare la dieta E mangiavo solo a mezzogiorno E invece sono ingrassato Quello che faccio io Invece mangio solo la sera Adesso non mangio neanche la sera La mia vita è riso Riso e in bianco Fantastico Allora Questo qua cos'era? Perché non lo fai? Perché non lo fai? Esatto Sì ma dipende cosa ti mangi Se a mezzogiorno ti mangi un cotechino Intero Poi non è che puoi lamentare Io l'unica cosa buona della malattia È che ho perso 5 chili in 10 giorni Cos'è il basmati? Non so cosa sia Riso? Riso Per fare curry? No mangio il riso Quello giapponato Mangio il riso giapponato A me un riso vale l'altro C'è tanto C'è il problema Che mangiavo così tante schifezze Che qualsiasi cosa che mangio naturale Mi fa dimagrire Perché io non avevo mangiato cose naturali Io sono sempre stato per cotoletta Patatine fritte Pizza e hamburger Questa è la mia Come si chiama? Come si chiama il riso che mangiamo? Marco? No di Yume Nishiki Yume Nishiki Te lo scrivo Yume Nishiki Grazie Marco Yume Nishiki Il bello che fa il riso è poi si lamenta che lo mangio Io gli ho detto Ma guarda che per me puoi fare il riso dell'S Lunga Io non sento la differenza tra questo giapponese e quello nostro Naturalmente lo fa la giapponese tutte e due Però lei dice che quello giapponese è più buono Questo qua fa schifo Non fa schifo Sì però nel rispetto a quello la fa cagare E soprattutto perché mi metti i video degli altri Nei miei fottuti video YouTube di merda? Scusate Mi sono girato e YouTube mi faceva guardare i video degli altri Nei miei video Cioè il mio video di due minuti C'è il video di un altro di un'ora e mezza Grazie YouTube Allora Invece di sponsorizzare i miei video YouTube sponsorizza quelli degli altri Nei miei video Mi fa molto piacere Visto che il mio canale sta morendo Allora Non mi ricordo più dove sono arrivato Aiutatemi qua Allora uno Qua cos'è Perché non lo fai? Mai ban Nei rare nack te Comatte ima C'è il video di un giapponese che prova a fare la carbonara Va bene Iruma Undo Oste mitara Dodeska Mai ban Tutte le sere non riesco a dormire A mezzogiorno Perché non provi a fare un po' di sport? Non so per quale Non ho capito il senso Comunque va bene Due kono Nomoshiro e kara Yonde mitara do Questo libro è interessante Perché non provi a leggerlo? Bah Apparentemente Ho sentito dire Uno Kimura sanwa Patini sanka shinaite Ho sentito dire che Il signor Kimura Non farà parte Cioè non parteciperà al party No a mezzogiorno Ah stavo a Yuki da te Ah domani Ho sentito dire che Niviken ha No a mezzogiorno è caldo Io ho già caldo adesso Io ho appena acceso l'aria Che stavo schiattando Facciamo gli esercizi Voi li vedete qua Ma io non li sto leggendo Li sto guardando qua Alzo la testa Per vedere se ho fatto giusto o no Shiai no maeni Motto Renshu Sureba Yokatta Prima della partita Sarebbe stato meglio Se avessimo fatto più esercizi Giusto due Kono Kawa Nomizuga Motto Kirei Dattara Sakanaga Sumerunoni Se in questo piume fosse stato più bello Sarebbero Viverebbero pesci Invece Pakakara Che è giusto Tre Konotokei Iro Iro Mo Design Mo I Motto Yasukereba Kaunoni Questo Orologio Sia il design Che il colore Mi piace Se fosse meno costoso L'avrei comprato Quattro Mi sono messo il vestito che ho comprato settimana scorsa e sono andato alla festa Giusto Poi Shatsuni Kohio Koboste Koboste Tanode Fuitara Kaete Yogorete Shimatta Mi Mi sono versato il caffè sulla camicia Ho tentato di pulirlo ma invece l'ho sporcato di più Giusto Sei Toshokanwa Kyo Yasumi Yasumi Yasumina 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 Oggi La biblioteca La biblioteca è di riposo No non è di riposo Yasumina Yasumina Ok Qua la stalla ho cannata C'aveva il na E lo me lo settoni No dove è andato Non lo trovo più Ho cliccato Ah è sotto Trovo più Aiuto Ho perso la Ho detto senza il na Quindi questo lo mettiamo in grassetto Che non mi ricordo che l'ho sbagliato Poi sette Sato Sato Sanwa Kyo Tanjobi Date Sonanda Ho sentito dire che oggi è il compleanno del signor Sato Ah veramente Saki Eia Giusto Saki Eia O Soji Sta Baccari Da Karakire Da Ho appena finito di pulire la stanza quindi è bella Giusto Dareka Ni Ikikuma Ni Jibunde Shirabete Mitara Do Desho Prima di chiedere agli altri perché non te lo cerchi da solo 10 Nakamura Sanwa Senju Nyuin Statte Senju E' settimana scorsa quindi Statte Ok Il signor Kimura ha sentito dire che settimana scorsa è stato ricoverato E' un beato lui 11 Yoko Sezume O Kikeba Yokata Sarebbe stato meglio che aver ascoltato la La Che si chiama la spiegazione 12 Ima Dattate Tomodachi To asobini Kerunoni Ima Dattara Se avessi avuto tempo sarei andato a giocare con gli amici Quindi Ima Dattara Tomodachi To Asobini Kerunoni E invece non avevo tempo Giusto Ok Poi sono andato avanti qua Ok sono andato avanti come un pazzo Quante pagine mancano? Più che altro non ho più fiato Ok mancano Due pagine Poi se ho tempo facciamo insieme sto rabo qua Vediamo se lo riesco a fare o no Se no sono stronzo No due pagine Una Quattro Cinque Sei Figa Sette Golazzo Golazzo In che senso golazzo? Cosa stai guardando? Stai guardando il calcio? Ni o i te Così Ah ok Bene Sotsukyo wa Sangatsu Nijunichi Ha vinto sono contento Ah bene sono contento Bene io non seguo lo sport Gakuseo Ni o i te Okonawa Ha segnato un giapponese anche Bene Come si chiama? La festa per il diploma si svolgerà nella hall della scuola il 20 marzo Due Kenkyu ni o i te Jujo Jujo Nakoto wa Shinraide Kirudeta O Atsumeru Koto Per quello che riguarda la La ricerca Una cosa importante È mettere insieme i dati Che a Shinraide Dovrebbe essere Cacchio Ve lo segno E dati che abbiano Come cacchio si chiama? Confermati Dati veritieri Non voglio leggere Aspetta Lo cerco Sì A cui si può Che crede Eh non Non lo conosco Io sono rimasto a Nakata Gioca nel Bologna Io sono rimasto a Nakata Quando giocava Nella Juve O nel Milan Non me lo ricordo più Era anche un mio cliente Da Prada Allora Nikurabete Kionen Nikurabete Confronto L'anno scorso Quest'anno Kotoshu A Yukigao Come nella Roma No Giocava nella Juve O nel Milan Quello che dico io Ma ti parlo Del 2000 Forse 2000 2001 Non mi ricordo Poi ci era Nagatomo Nell'Inter Boh Non mi ricordo Io lo incontravo Sempre da Prada A Milano Pensavo che giocava Nella Juve Nel Milan Boh Probabile Non lo so Sono ignorante Il calcio Allora Rispetto all'anno scorso Quest'anno Nevica tanto Due Toriniku La carne di pollo Rispetto alla carne di maiale E meno grassa Uno Ueni No Non ho giocato Nessuna delle due Non lo so Grazie per avermi detto Io te l'ho detto Perché pensavo Che giocassi Ero sicuro Non sono mai andato Neanche a vederlo Lui veniva in negozio Da me Basta Uno Più va in alto E più La temperatura Si abbassa Due Keizai No Atteni Tsurete No No Kano Kasua E Teita Atten L'avevo cercato Anche l'altra volta Però lo cerco Anche stavolta E quindi lo segno Copia Tra 2000 o 2001 Ha giocato a Roma E a Parma Forse proprio Quando era in Emilia Che veniva su Ah bene Sviluppo Ok Per lo sviluppo Dell'economia Più si sviluppa L'economia E Il numero Delle Fattorie Il numero Delle fattorie Diminuisce Poi Io Sviluppo Che poi l'ho già fatto Mille volte Vabbè Toste Nel ruolo Kim Sanwa Ryugakusei Daio Toste Spiccio sta Il signor Kim Come rappresentante Degli studenti stranieri Ha fatto un discorso Due Karewa Sensu Toste Dakedenaku Kaka Tostemo Ninkimoru Lui non è solo famoso Come Come atleta Ma anche come Scrittore Kaka Aspetta Kaka Non è scrittore Kaka È Architetto Boh Kaka Che cazzo È Qua Qua è sbagliato Dovevo segnare Toste E invece ho segnato Kaka E l'altro Lol Guardate Ho sbagliato Segnare Toste E invece ho segnato Kaka E l'altro Pa 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 Quando segnava Onda È vero Ah Artista Kaka Artista Ok Uno Nionno Kesai Ni Tsui Te Ben Kyo Ste Iro Sto studiando Per quel che Lo riguarda L'economia In Giappone Due Internet L'ultimo Mio moto Che ho guidato Era Il Si Quello Con La sella Lunga Al mare E sono andato Contro Un Mercedes Mi ha spezzato Delle gambe E la testa Allora Avevo Il Si Esatto Quello è il mio Ultimo E poi non si metteva Neanche il caso Allora Internet Ni No vabbè Capita Ni Io Te Sei Katsuga Ben Rinata Grazie a internet La vita è diventata Più facile Cioè Più facile Più utile Bo Kanogio Washi Goto Sezuni Mainichi Asonderu Lei non lavora E gioca tutto Il giorno Cioè qua Asonderu Significa che Va in giro Non è per forza Giocare Scusate Ho delle fitte Incredibili Dolore Dove andavi al mare? A San Benedetto Del Tronto Allora Cinque Dei Gakuno Shokudo Ni 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 Oite Pati Gakuno Vareru La festa Si svolgerà Nelle Marche Alla mensa Sì Andavo sempre Lì Andavo Fino a Bo Quando ho avuto 17 anni Poi Poi Nella vita No L'ultima volta Che sono andato In quella zona Lì Sono andato A Marco Dov'è che eravamo andati A San Benedetto Non mi ricordo Sempre a San Benedetto A me piacciono Un sacco Quel posto Altri posti Al mare Non sono andati Allora Kanogio Shigoto Allora L'ho fatto Imoto Watashi Ni Kurabe Te Ryori Beh Normale Mia Sorellina Rispetto a me È più brava A cucinare Grazie a Da Daigakuno Shokudo Romagna a mangiare Una piadina Eh sì Quando riuscirò A muovermi Già prima Mi è venuta Una fitta Che dovete ringraziare Che mi sono messo La mano sulla bocca Perché stava partendo Una lingua Che non conoscevo Allora Daigakuno Allora La festa Si svolgerà Nella mensa Della scuola Questa era la 5 Ok Toshio Toru Ni Stagatte Mega Warukunaru Più divento vecchio E più gli occhi La vista Va Si peggiora Giusto Sette Karewa Sakka Toste Seikaijuni Sira Sereteiro Lui è conosciuto Come In tutto il mondo Come Sakka È scrittore Produttore Cerchiamo Mamma mia che dolore No 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 Lo spero il prima possibile Autore E scrittore Allora Sakuya Wa Atsukata Karamado Shimazuni In età Ieri facevo un caldo Boia Quindi ho dormito Senza chiudere la finestra Shimezuni Non Shimazuni Scusate Shimezuni Fuori il test Poi Sugino Gokusai Kaigi New York New York Ni Oite Okona Ware Teruo La prossima Riunione Del mondo Si svolgerà New York Giusto Due Samukunaru Nizurete cos'era Scusate A ieri sera Si stava bene Con la finestra Apertara No Io stavo malissimo Allora Samukuninaru Nizurete Kodo Koto ga Ureru Yoninaru Più fa freddo E più si vendono I I cappotti Aniwa Kashu Mio fratello Non solo come cantante Ma anche come attore E tutte le mattine Dalla mattina presto Alla sera tardi Lavora Contento lui Meru Meru Tegami Tokurabete Ayakute Yasui La mil Rispetto alle lettere Più veloce E economica Cinque Jibunno Shorai Nizuite Yoku Kangae Temio Penso molto bene Per il mio futuro Penserò bene Per il mio futuro Allora Le ultime due pagine E poi facciamo gli esercizi Proviamo Non vi assicuro niente Perché il mio cervello E il mio cuore E spezzato Però ci proviamo lo stesso Tosuru A parte che non ha più saliva Allora Assumendo che Mettendo che 1 Yachinga Ikagetsu Jumantosuru Ichinenka Ikura Shiziondaro Facendo conto che un mese Ci vogliono 80.000 yen In un anno Quanto ci sarà bisogno? 8 per 12 80 per 12 2 Tatoeba Ashta Chikyu ga Metsubosuru Toshimasu Anata wa Kyo Nani Oshimaska Per esempio Se domani Il mondo Finirà Tu Oggi Cosa vorresti fare? Vorrei mandarti A fanculo Perché porti sfiga Questo affare Allora Se fosse Moshi Ikoshi Srutu Starah Atarashitte Iroi Tokoro Gai Se Se mi trasferissi Vorrei andare In una nuova E larga In un nuovo E più ampio spazio Moshi Kuruma O Katta Toshitaran Do Konikita Endesuka Se comprassi Una nuova Macchina Dove vorresti andare Lontano Da te Ok Poi Toshitemo Moshi Toshitemo Allora Moshi Ikoshi Ikoshi Toshitemo Ikoshi Toshitemo Imasuguno Imasuguno Anashide Wanai Anche se No Assumendo che Mi trasferissi Anche se Lontano dall'Italia Anche Anche se Mi voglio trasferire Non è ora Non è un discorso Di adesso Due Tato è Imanoshigoto Gatsu Maranai Toshitemo Mosukoshi Suzuketa Oga Io Anche se Il tuo lavoro È Noioso Ti conviene Continuarla Ancora per un po' Se no Non prendi soldi E poi fai la mia fine Che ti ammali E devi usare Tutti i soldi Che hai risparmiato Tutta la vita Per pagare L'ospedale Allegria Allora Parlando di Se parliamo di Uno Gaksejidaito Yuto Saka Noshiaide Yushostakoto Omoedasu Se parliamo Del periodo Della scuola Mi viene sempre in mente Quando abbiamo vinto La partita di calcio È l'esatto Due Nionde Il bello Che il chirurgo Si è anche arrabbiato Come fa No Se tu hai Un'urgenza Loro devono rispettarti Se c'è scritto Entro dieci giorni Ti devono visitare Entro dieci giorni Sì A parole Sì Ma se poi chiami Ti attaccano il telefono In faccia È il bello Che tutto il giorno Ho chiamato Tutte le telefonate Che mi appendevano Mi hanno trovato A gennaio O a fine agosto Quindi Sono andate Ho pagato Di mio Allora Due Vergogna È così È così Nion No Qua manca un pezzo Che cacchio è Che cacchio è Che cacchio è scritto Qua ho fatto Ah no Ho invertito Queste due frasi Strano Ho invertito Le due frasi Allora La due La tre La tre La due A due Nion Assistenza sanitaria C'è per No c'è solo se stai schiattando Se no Non ti cagano Nion De Ninki No Haru Sposuto Bravo Toieba Yakuga Sokadoro Gli sports Che sono famosi In Giappone Sono Il baseball E il calcio Se parliamo di sports Quelli famosi in Giappone Sono il calcio Ok Nion No Yumen Kanko Chito Itara Doko Desuka Un posto famoso Per il turismo In Giappone Qual è? Poi Anche se hai detto Uno Ashtakara Ryoko Nikuto Yuno Ni Mada Jumbi Ga Oatenai Anche se ho detto Che In Giappone Stiamo parlando di Giappone Allora Anche se ho detto Che domani parto Non ho ancora Non ho ancora Fatti i preparativi Due Sono già Luna di notte E il papà Non è ancora Tornato Anche se Sarebbe Sì anche se Allora Gli esercizi Vediamo se Ecco giusti Watashi gao Sakea Sukijanai Nomuto Stemo Parti Noto Kida Kida Allora A me non mi piace bere Se bevo Bevo solo quando c'è una festa Io neanche lì Due Watashi wa Kare notomodachi Toste Kare wa Onto Nokoto O Anasta Allora Io Come suo amico Gli avrei detto la verità Poi Tre Yamani noboru Tostara Fujisangai Se scalo una montagna Vorrei scalare il monte Fuji Quattro Moshi Anata Ga Shacho Da Tostara Konokikako Sanse Shimasuka Se tu fossi il capo Saresti d'accordo Con questo Con questo Pia Cinque Ima Nara Ciotto Tzudate Se non hai nulla da fare Dammi una mano No Sei Australia To Yeba Koala Ya Ganggan O Imeji Suru To Suriba To Yeba Allora Se parliamo dell'Australia Mi vengono in mente Kanguri Koala E Mi viene in mente Sì Mi viene in immagine Di kanguri Ekoala Eccetera Eccetera Sette Moshi Ikoki No Cichetto Ga Torrenakatta To Shhtara Kuninika Eremasense Non riuscirei a comprare il biglietto dell'aereo Non posso tornare alla mia nazione Otto Kisakuya Kisakuya Sanjikan Nenakattano Dakara Genkina Wakenae Genkida Genkina Wakena Genkina Wakenae Ieri Ieri ho dormito solo tre ore Non sto bene per un cazzo Dov'è che l'ho scritto? Anche qua Infatti non trovavo che Nove Karewa Tsukoshi Tsukarete Iru Ioni Iona Kanjida Iona Ioni E te pareva? Come lo segno? L'inverto sempre Allora Lui Mi sembra un po' stanco Karewa Tsukoshi Tsukarete Iru Ioni Iona Ioni Ioni Kokoni Akaichi go Shiroichi go Ga Aru Toshimasu Anata wa Doccira O Eravimasuka Facciamo finta che qua c'è una fragola rossa e una bianca Tu quale sceglieresti? Mako dice che quella bianca è buonissima Io non l'ho mai mangiata Rissanga Kuruma O Untensuru Wakeganai Menkyoga Mottenai Dakara E anche io ho detto rossa Ma Marco dice che quella bianca è la più buona Il signor Lee E' impossibile che Rissanga sta guidando Non ha neanche la patente Kino Picasso No Kaita Noga No Kino Picasso No Kaita E Ominita Ieri sono andato a vedere il disegno che ha fatto Picasso Che ha disegnato Dopo la rossa mangiamo anche la bianca Eh si dopo Però la prima scelta per me è rosso Allora E niente Vanno in un cacchio Finito Fammi vedere la lezione dopo Qual è Così mi metto il segno Troppo sotto Fammi vedere la schiena No infatti sono andato troppo Questo E' a 77 Mi metto il segno Così Quando facciamo ripasso la prossima volta Su che devi iniziare da qua E me lo scrivo Ok proviamo a fare questi esercizi qua Non so se li farò giusti o no Però proviamo insieme La lezione è questa qua Allora E' la prima volta che li leggo E quindi non lo so neanche io Vi ingrandisco Perché non lo so Non c'è scritto niente Perché erano esercizi Aspetta Non lo trovo Ditemi se funziona il microfono Quando switch Che altro se si capisce Devo inserire la parola giusta Nel buco giusto Kaeghi no Zutto ne mukte tamaradakte Durante la La riunione Avevo sempre sonno Kaeghi no Aida Io metterei Aida O Aida ni Però non c'è Ah no c'è anche Aida ni Durante la riunione Avevo sempre sonno Potrebbe essere Aida o Aida ni Però Come faccio? Vabbè io metterei Aida Poi vediamo Dove me lo scrivo il risultato? Lo scrivo qua Perché se no vedo le risposte Io metterei uno o due Però in questo caso metto uno E poi controlliamo se è giusto Allora Allora Uno Uno Poi Moshi komi no wa kinomade Datara imakara Dasta Daste Daste mo Shukataganai L'iscrizione era fino a ieri Anche se la Dea adesso Non fa nulla Magari è cinque Allora la due e la quattro Per me Poi tre Donna ajiga tsukika wa itoni Questo qua Itoni totte o itoni iote Itoni iote Itoni iote Itoni totte Itoni totte O iote O è totte o iote Non mi confondo I sapori che piacciono le persone Itoni totte Cambiano in base alle persone Metto totte ma non mi ricordo Dovrebbe essere o totte o iote Però Atoa ichigikande Ryokoni Shippatsu da Toyunoni Mada Nanimo Jumbi Stenai Si parte tra un'ora E non ho ancora preparato nulla Io metterei Toyunoni Quattro Tre Poi cinque Ryori wa Ryori wa Nireba Niru Hodo Oishikunaru Oishikutemoi Oishibakarida Oishikodo Allora Questo è Ryori Tra parentesi Ryori wa Nireba Niru Hodo Oishikunaru Più le cucine Più sono buoni i cibi Anche qua metterei uno Vediamo Koko Jidai No Tomodachi Kanogio Shiriatta Allora Koko No Tomodachi Ni Tsujite Kanogio Shiriatta Grazie al mio amico Delle superiori Ho conosciuto lei Io metterei uno Tutto uno Praticamente Vabbè Poi magari è tutto sbagliato Kokusai Kaigi Ewa Kono Kaijode Jiu Tokakande No Non è Toka No è Toka Tokakan 10 giorni Ni watatte Kikareru No Questo non è Kiku Questo qua è aperto Akareru Allora La riunione mondiale In questo posto si terrà per 10 giorni Ni watatte Qua è 4 7 Watashi ga yarimastu Ite Ikuketashi goto desu kara Watashi ga yaru Shikarimasen Watashi wa Yaru wake ga arimasen Wake de wa arimasen Odo ja arimasen Anche qua per me la 1 8 1 Poi Pasokonga Kuare teite Ekyo Chuni Shikoto ga Oware wa tozen Oware soni nae Oware ba inoni Oware Mi si è rotto il pc E quindi oggi non finirò il lavoro Oware nae Oware nae O la 2 O la 4 Però metto la 4 Poi vediamo 9 4 Disastro Cos'è successo? Karaoke nikuto Moda chinitui te Ona ji utao Kika Reru Kikasa 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 Reru Kikasa Reru Qua è 3 10 3 Se vado al karaoke I miei amici mi fanno sempre sentire la stessa canzone Ah ok Kare wa Aisatsu Mo Tezuni Kaete Shimata Lui Senza far salutare è tornato 4 11 4 Cioè io metto le risposte che userai io Poi magari sono sbagliata Sono Onbokuni Kaste Morawanaikana Io Mi presteresti questo libro? Metto 3 12 3 13 Taku Takuai bin Do 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 Imi Do Imi Qua è 3 13 Allora Che cosa significa la spedizione Dalla posta? Nimozo È un È un servizio che ti consegna la merce Andiamo a controllare Queste sono le mie fantastiche risposte Controlliamo Allora 1 1 1 2 4 3 3 3 Perfetto Sbagliata 3 3 E io Te Lo sapevo E lo sapevo 3 3 Ho fatto Io ho messo Tote Invece era Io Te Poi Allora 3 1 Giusto Poi 5 1 Giusto 6 1 Giusto 7 4 Giusto 8 1 Giusto 9 2 E io ho fatto 1 E io ho fatto E io ho fatto 1 2 Non ho capito 9 2 9 2 Io ho messo 4 Ah si Quello sopra Waris 9 L'avevo detto 1 L'altro E queste qua Che ci sono Due possibilità Le che hanno Sempre Quindi Waris 9 2 Ok Poi Poi Sono perso 10 3 Giusto 11 4 Giusto 12 3 12 2 Perché Saku Ai Binto Do Yuimi Perché Non è Te Manco Perché Questo Non è Te Saku Ai Binte Do Yuimi Perché Non è Te E lui dice Che è Giusto Io ho messo Te Ecco Hai Binto Do Hai Binto Do Invece No Lui dice No E ma Figa No Ah no Sbagliato Sì No Sbagliato Io E la 12 Che dice 2 Scusa Eh no Ma scusa Anche questa Per me No Aspetta Ah Questa è la solita Cosa che sbaglio Kurenai Con Morawanai Questo l'ho sempre Sbagliato Lo sbaglierò Sempre Però me lo scrivo 2 Ne ho sbagliato E 3 No no Ok Qua è il solito Che io faccio Morairu Al posto di Kurenai Ma se hai un po' Strunzi Eh so strunzi Ma Cioè Nel senso Sbaglio Perché io parlo così Hai capito Per me è giusto E invece è sbagliato Adesso Mako mi ha illuminato Non vedo più niente Ok Continuiamo con l'esercizio qua Mako Non urlare Gesù Figa Eh non stai urlando Mi hai fatto esplodere il cervello Kurewa Allora qua devo mettere In ordine la frase E dire nella stellina Quale di queste È quella giusta Kurewa Atsui Kurewa Shosezun O Ste Kurewa Tsukuretta Questo non sa come comporla Aspetta Kurewa Motoni Shosezun Shite Tsukuretta Ega Desu Motoni Dov'è che si mette Scusa Kurewa Shosezun Shite Tsukuretta Motoni Il quale è importante Come mette in ordine Perché in base all'ordine Cambia il posto Della stellina Allora Motoni Kurewa Shosezun Kurewa Stetsukuretta Motoni Ega Desu Quindi uno Poi Kurewa Yasumiga Isshukan Toreru Toshtara No Isshukan Gurai Toreru Toshtara Zehi Ryokoshtai Allora Isshukan Gurai Toreru Toshtara Quindi Eto Due Poi Dansan Nessuno Studia Tanto Come il signor Dan Dax Dax Dansan Odoha E la fine C'è il significato E che non c'è nessuno Serio Studia Tanto Come il signor L'ordine Dansan Fa Kim De Dansan Toshtara 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 Atta Toshtara Atta Mono Descara Qua è Mono Dice Toshtara Allora Mentre venivo C'è stato un incidente Quindi ho fatto Ritardo Alla riunione Questa è facile Cioè facile Non riesco a mettere L'ordine Toshtara Kotsujiko Ga Atta Mono Kadesukara Ok Ok Pocotte Baccari Kenconi Pocotte Baccari Iruto Kenconi Warui Quindi questo Iruto 4 Però mi manca Questo Allora Kyokuben Kyosuru Gakse Magimede Non so Magime Dove metterlo Questa qua Non so O dove va la fine Metto uno anche qua Mi sembra strano Però Proviamo andare a vedere Aia Che altro Mi esplode il cervello Allora Bene La prima Le altre due fatte giuste Ho invertito queste qua Alla 12 E 1 No E 2 Core Wa Kyosetsu Ci vuole un massaggino celebrale Eh Non ce la faccio Dovete perdere Quindi è 2 Qua 1 E giusto 1 1 4 3 Completamente diverso Che cazzo è Ah figa Sto leggendo le risposte Di altre robe Vabbè Affan Completamente diverso Ah c'è scritto qua sopra Ok Shosetsu wo Motoni Stetsu Coraretà Ok Quindi 2 Cotto e condito Io Sono fuori Gurai Gurai Totore Ruto Starà Questa è giusta Maggi Questo non capito Odo Magime De Yoko Eh no Questa l'ho invertita Completamente Quindi questa qua L'ho cannata Per forza 4 E il resto è giusto Ho cannato quella lì Perché l'ho invertita Completamente Vabbè Qua invece Devo infilare Una di queste parole Nei buchi giusti Farò un bordello Però vediamo Allora Devo leggere Questo testo Capire il senso E infilare le parole giuste Grammaticalmente Lì dentro Quindi sarà Watashi Itachi No Abichi Eigo Sakuru Nizuite Shokai Shimasu Allora Vi Vi presento Il nostro Club Della BC D'inglese Qua 2 Aspetta che me lo scrivo Non c'è già più spazio 2 Questo qua Poi Watashi Tachi Maeshu Kaiobi ABC Qua cos'è Osheru Piokai Sacca No Che ho schiacciato Per togliere i brufoli Sul naso Chiokai E chiesa Abichi Chiokai De Eigo No Lesson Wa Ukete Imasu Noi Ogni martedì Della settimana Facciamo La lezione D'inglese Abichi Tenta Adesso In seno Lesson Ukeru Okanaku Shikanaku Kotwanaku Dakedenaku Allora Io metterei Dakedenaku Allora Allora Al centro Non è che ascoltiamo Solo le lezioni Del professore Ma Kai Gai Cioè Gai Gokujin No Gesto Yonde Eigo De Communication Surukotoga Non solo Seguiamo la lezione Del professore Ma anche Chiamiamo Cioè Parliamo Con Studenti stranieri Special guest Stranieri Praticamente Parlano Con Gli inglesi Mata Membade Ego No Ega O Minikukot Morimas Andiamo Anche a Vedere Filmi In Inglese Interessante Nakama To Ishoni Ego Tanoshimukoto Watashi Tashi No Muktekides Divertirci A guardare I film In Inglese Con Gli Amici È Il Nostro Scopo Konayona Katsudo Steirouchini Dandan Ego De Ego De Anase Ruyoni Anase Temoshikata Ganako Anase Takonaku Anase Wake Ganako L'Uno Per L'Uno Anase Ruyoni Praticamente Più Facciamo Queste Cose Più Riusciamo A Parlare Bene L'inglese Genzai Atarashimemba Waa Boshu Steimas Ego Ni Kanshi Aru Anase Sakuruni Ikagadesu Boshu Lo cerco Boshu Dolore alla panza Registrazione Uno nuovo Che si sta Registrando Allora Attualmente C'è uno nuovo Che si sta Registrando Sakuruni San Kaste Mite Ikagadesu San Kaste Mite Mo Ikaga San Kaste Mirunara San Kaste Mitarara Per me O l'Uno O il Due San Si ha interesse Verso l'inglese Perché Non ti iscrivi Nel nostro Club Ikai Kenkako Surudake Demo Dai Jobides Va bene Anche se Vieni a visitarci Una volta Cioè A fare una prova Una volta San Kaste Mi Temo Ikagade Io metterai Due Qua Uno Uno Due E poi Tanoshiku Questo qua Cos'era Non me lo ricordo più Katsudo Suterukotoga Kitto Wakate Morau Wakate Agiru Wakate Morairu Wakate Agirareru Wakate Morairu Wakate Morairu Wakate Morau Wakate Morairu Wakate 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 Questa qua Sono le cose Che mi sbaglio Sempre con Agiru Morairu Sbaglio Minna Deo Ma vai Comunque Se viene a partecipare Alla nostra Unione Sicuramente Capirai Tutti i membri Ti stanno Aspettando Katsudo Io metterei Wakate Morairu Però Visto che Sbaglio Sempre Faccio Il contrario Wakate Agirareru Un pugno Uomo Adesso vedo Aspetto un secondo Che Vabbè Faccio L'inverso E basta Io mettere Wakate Moraut Moimas Metto tre Ma Sicuramente Ho sbagliato Impazzito Ho finito Comunque Adesso finisco Di leggere Qua Ho finito Allora Vediamo Se ho fatto giusto Due Uno Uno No Ho sbagliato La penultima Due Tre Ho sbagliato La penultima Che era Quattro Sanca Stemitarà E io ho messo Invece Sanca Sanca Stemo Vabbè Stemitarà Allora Fammi Rileggere Sarcuni Sanca Stemitarà Ica Gadesca Vabbè Uguale Comunque Sono queste cose Qua che uno All'altra Quelle lì Me le sbaglio Sempre Ma cosa Stai dicendo Davis Vabbò Raga Vado Che c'ho Un dolore Pazzesco Ne sto Per svenire E' stato molto bello Ripassare con voi Ci vediamo domani Con Mi sembra che I kanji domani Facciamo i kanji Sayonara Se sto meglio Ci vediamo oggi pomeriggio Ma dubito Visto che mi sta facendo male cane E ci vediamo Ci vediamo Ci vedremo Prima un po' Grazie ancora Davis E Dani Per la compagnia Mataniam Bye 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 Buongiorno